Una lettera aperta dai toni durissimi è stata inviata dalla senatrice del PD, Venera Padua, al manager dell'ASP7, Maurizio Ricò, a causare l'ira della senatrice e l'indisponibilità del direttore generale a far visitare al sottosegretario della salute Vito De Filippo il nuovo ospedale di Ragusa. A Ricò, secondo la senatrice, avrebbe infatti risposto con un secco no alla sua richiesta, spiegando di non avere tempo, un atteggiamento inaccettabile, secondo la Padua, che voleva far visionare i lavori del nuovo nosocomio ragusano al sottosegretario della salute investita negli blei. Una lettera che stigmatizza duramente e senza mezze misure l'atteggiamento del manager a Ricò, che a sua volta non se la fa cantare, anzi rispone tono su tono di aver trovato inopportuno e fuori luogo la richiesta di spletare tre ore prima dalla visita al cantiere del nuovo ospedale di Ragusa per mostrarla all'ospite. Il direttore generale ha ritenuto che per la prima visita ufficiale di un membro del Governo nazionale in carica ad un manufatto così simbolicamente rilevante per l'azienda e per l'intero territorio non potesse essere organizzata nel breve giro di tre ore e 36 minuti. Trattandosi di un cantiere con lavoro in corso, l'accesso ai non addetti andava garantito anche per quanto riguarda la sicurezza da parte dell'ufficio tecnico aziendale, già impegnati in altre attività. Inoltre, la direzione strategica era in quelle ore impegnata nella realizzazione e nell'approvazione della delibera di adozione di un nuovo atto aziendale, attività questa non indifferente per un impegno che avrebbe portato all'indomani il direttore amministrativo fuori sede e il direttore sanitario fuori regione. Su queste basi, il direttore avrebbe cortesemente declinato l'invito richiedendo la disponibilità della direzione ad organizzare una visita con l'adeguato preavviso in un'altra data da concordare. Il manager conclude anche serendo come inappropriata la menzione di un'ipotetica ispezione della senatrice.